Musica Manca che il Chieti fai un altro passo falso perché per il resto è un bel testa a testa siamo due ottime squadre secondo me arriveremo fino alla fine tutte e due entrambe complete, entrambe strutturate noi ormai abbiamo preso la nostra fisionomia di gioco siamo completi e andiamo come un treno adesso si è visto oggi il primo tempo insomma a fine abbiamo deciso di fare i gol abbiamo fatti poi abbiamo un po' tirato i remi in barca perché è giusto così per il resto è un'ottima prestazione ottimi 40 minuti abbiamo fatto erano quelli che avevo chiesto alla squadra no, lato motivazionale no perché alla fine voglio dire abbiamo fatto una grande rincorsa per cui le ragazze sono cariche, motivate ci servono le partite come il secondo tempo di oggi dove comunque c'è intensità ed è quella che noi cerchiamo alla fine per cui va benissimo così è quella che ricerco anche negli allenamenti anche perché poi dobbiamo incontrare ancora tra Stevere e il resto sono due partite veramente difficili contro due grandi squadre servirà a tanta intensità per cercare di portarle a termine vittoriosamente grazie a tutti